Perché eTwinning è essenzialmente una modalità di fare scuola anche oltre la scuola. La mission delle scuole eTwinning è quella di una leadership condivisa, è quella di una collaborazione continua in tutta Europa e sicuramente questo ci permette di sentirci e di far sentire i nostri studenti più europei. Il fatto di poter contattare altri compagni di altre realtà, di condividere pensieri, parole sicuramente è importante, importantissimo. Attraverso la community di Twinning e tutte le opportunità di sviluppo professionale che offre il portale Twinning ho avuto l'opportunità di rispondere a quello che era già un istinto mio naturale che mi portava verso la ricerca di una innovazione nel modo di insegnare una lingua come insegno io che è il tedesco che a torto ragione da tanti viene considerata una lingua ostica, difficile, dura e quindi per me ha significato trovare un punto di appoggio per sviluppare attività coinvolgenti che hanno portato i ragazzi a godere anche del fatto di essere messi in contatto con colleghi coetanei di altri paesi europei che utilizzavano la lingua non a scopo linguistico per imparare la grammatica ma proprio per comunicare, comunicare idee, comunicare vita. Il Twinning mi ha dato la possibilità di operare con i ragazzi, di lavorare con i ragazzi all'interno del Twin Space praticamente dell'aula virtuale con la quale noi, attraverso la quale noi facciamo i progetti con i ragazzi secondo me è fondamentale perché oggi bisogna superare inevitabilmente, ormai non è più tempo dell'insegnamento di tipo trasmissivo i progetti Twinning danno ai giovani la possibilità di fare questo, in che modo? operando direttamente, creando, avendo dei compiti reali da fare, degli obiettivi reali da raggiungere all'interno di una realtà reale e strutturata come quella di una piattaforma una piattaforma all'interno della quale i ragazzi collaborano collaborano non soltanto tra di loro, cosa sì potrebbero farlo anche in classe ma la cosa importante è che collaborano con i coetanei degli altri paesi europei Io sono convinta che la scuola i Twinning riesca a guidare il cambiamento in quanto si prefigge di raggiungere piccoli obiettivi che anno per anno diventano obiettivi sempre più prestigiosi e soprattutto i percorsi e Twinning consentono di cambiare riscoprendo l'identità personale e le capacità di cambiare dei nostri docenti Li Twinning è la mia filosofia di lavoro perché mi permette di lavorare in maniera diversa e il salto di qualità per me è accaduto quando sono riuscita a trasferire il modus operandi di Twinning nella didattica di tutti i giorni, nella didattica quotidiana in modo tale da riuscire a collegare tradizione ed innovazione e di Twinning mi aiuta a fare questo ogni giorno E gli studenti fin da subito comprendono che il prodotto del loro lavoro all'interno del Twin Space ha una visibilità diversa dall'ordinario tutti ci tengono e tutti danno e riescono a dare il meglio di sé Posso ricordare un aneddoto in uno dei nostri progetti di questi anni avevamo programmato con la classe partner di progetto un'attività di pixel art dove gli studenti nessuno delle classi conosceva l'intero codice ma se lo dovevano dettare reciprocamente sia nella nostra classe che in quella partner l'evento accadde in videoconferenza c'era un silenzio quasi innaturale specialmente per le classi delle scuole italiane ma tutti erano concentratissimi nello sforzo di ascoltare la dettatura del codice e di dettare a loro volta erano bambini di una classe seconda e avevano imparato, si erano impegnati ad imparare lo spelling e la numerazione fino a 50-60 in inglese quindi aveva motivato tutti questa cosa perché chiaramente la visibilità è diversa tutti vogliono avere il proprio lavoro pubblicato nel Twin Space grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.